Mi raccomando lasciate un bel laicozzo e vi porterò il post partita di Ternana Perugia. Alle ore 15, a Libero Liberati, si giocherà Ternana Perugia, Ternana Perugia. La partita più importante di tutta la stagione, la partita che vale una stagione, che vale tutta la stagione che abbiamo fatto quest'anno. Quest'anno vale una stagione domani, domani Ternana Perugia varrà una stagione. Ci manca solo un'ultima cosa, un'ultima cosa, come ho già detto, se vinciamo questa partita, per me è come se abbiamo vinto il campionato. Cioè, capito raga, capito, come se non avessimo vinto il campionato, giochiamo contro il Perugia, per me è come se avessimo vinto il campionato. Non vinciamo il campionato, ma mi sta bene che vinciamo contro il Perugia, cioè ovviamente l'abbiamo vinto il campionato. E il prossimo anno non solo l'incontreremo domani, domani, in Supercoppa, ma l'incontreremo anche il prossimo anno, il prossimo anno, tra andata e ritorno. Tra andata e ritorno e vedremo, vedremo che si aggiudicherà il derby. Il derby, perché l'Umbria, perché il derby Umbro, perché l'Umbria è solo rosso-verde, è solo rosso-verde, è solo rosso-verde l'Umbria. Dai Eternana, dai, dai, dai. Ragazzi, la testa domani, domani, domani ragazzi, sentitemi tutti, domani ai giocatori, sto dicendo ai giocatori ragazzi. Domani la testa deve stare lì, deve stare lì per tutta la partita, per tutta la partita. Fino alle cinque, deve stare lì, lì la testa, solo e unicamente lì. Perché ci giochiamo, per me, come ho già detto, per tutti, non solo per me. In questa partita, per tutti i ternani, vale una stagione, vale una stagione. Non solo ci sarà il derby, ma ci sarà anche la coppa, perché questa è la finale, è la finale. La cosa più brutta, più brutta, veramente, la cosa che non riesco a digerire, è che quest'anno non sia potuto andare allo stadio per questo maledetto Covid, purtroppo. Se no, dentro, lì dentro, potevamo vivere quest'anno una cosa bellissima, bellissima. Già è stato emozionante viverlo guardando i giocatori della divisione. Se non c'era questo maledetto Covid, si poteva andare a vedere le partite. Abbiamo visto là dentro uno spettacolo, uno spettacolo, uno spettacolo, uno spettacolo. Quindi, ragazzi, la testa domani deve stare solo lì, solo lì, lo ripeto, per la terza volta, per la terza volta, è la partita. Questa partita vale una stagione, ragazzi, una stagione vale, vale una stagione, vale una stagione, vale una stagione. Speriamo che Lucarelli la prepari di sicuro, questa sarà la partita che preparerà meglio Lucarelli. Speriamo che metterà. Capito, capito, ragazzi, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Domani la testa deve stare solo lì, solo lì, solo lì, solo lì, vedremo, vedremo che diranno i perugini, vedremo. Ma domani, ma è tutto da fare ancora, è tutto da fare. Ancora non, ancora, noi non nessuno, dobbiamo giocarcela, ecco, dobbiamo giocarcela, ragazzi. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura, assolutamente, perché quest'anno non abbiamo nessuno, il Perugia a me non mi fa paura. Non mi fate paura, non mi fate paura, non mi fate paura, non mi fate paura. E lo ripeto, l'Umbria è solo rosso-verde, è solo rosso-verde, è solo rosso-verde, è solo rosso-verde, è solo rosso-verde. Non dobbiamo avere paura, perché quest'anno non abbiamo mai avuto paura. Nessuno, nessuno ci mette paura. A noi nessuno ci mette paura. Nessuno, nessuno, nessuno ci mette paura. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale per la Ternana, per i giocatori, per la Ternana, per l'amore che hanno dato, per la Maglia, per l'amore che hanno dato quest'anno, quest'anno questi giocatori. Io vi aspetto domani, il post, il post partita di Ternana, per l'amore. Speriamo che vada tutto bene. Un bacio, ragazzi. Ciao. Ciao.